Luciano Avellino ha il volto sorridente di chi ha appena condotto la propria squadra alla vittoria nella categoria del 2009. Insomma, questi bambini hanno tantissima carica, tantissimo entusiasmo, molto di questo entusiasmo glielo trasmetti tu? Sì, penso che tutti i bambini, anche quelli degli altri squadri, erano carichissimi. Questi manifesti non è che vince una o perde un'altra, vincono tutti. Le quattro squadre che ci stavano, sia la prima o la ultima, sono state bravissime. Una sportività che è molto bella, che fa molto bene sia ai bambini che alla cultura sportiva dei genitori, è molto importante. Tu ormai diciamo che sei diventato un latinenza ad onorem, possiamo dire, per tutte le stagioni che hai condotto finora nella Rapidot. È un anno che da punto di vista sportivo sicuramente si sta rivelando complicato, lo era sulla carta, lo sta diventando anche nella realtà. Però, così come ho detto anche al capitano Milani della Latina Calcio, voi avete tutti gli strumenti, le carte regola per potervi tirar fuori da questa situazione? No, certo, sicuramente che le carte e i mezzi per uscire da questa situazione ce le abbiamo e stiamo lavorando per quello. Poi lo sport dipende da tanti fattori e nel girone d'andata abbiamo pagato un po' di inesperienza nella categoria. Adesso speriamo riprenderci e dimostrare il valore sia della squadra che del mister e della società perché meritiamo continuare in questa categoria.